Ciao a tutti e bentornati all'appuntamento settimanale per quanto riguarda le recensioni. Nelle settimane precedenti vi ho illustrato un po' di prodotti. Ora incomincerò di nuovo a eserciarvi degli strumenti tecnologici. Oggi farò una piccola carrellata per quanto riguarda tutti i browser, che magari sicuramente tanti conoscono, però magari non tutti e magari non piccoli dettagli. Oggi comunque non andrò nello specifico, ma vi farò solo vedere per quanto riguarda le particolarità principali. Per prima cosa direi di partire dal classico Edge, che è quello che è di base di Windows, con il quale si possono anche leggere PDF. Qua abbiamo i vari strumenti di Office, qua le schede, io non le utilizzo molto per questioni personali. Qua abbiamo le notifiche, le opzioni a pagina, eccetera eccetera, qua abbiamo i punteggi che non ci interessano. E qua abbiamo altri link suggeriti. Poi, io principalmente uso Firefox, perché ha tante estensioni. Qua ho i link veloci. Qua, come dice, tutte le estensioni che utilizzo, qua sono i siti in cui entro. Si può mettere a tutto schermo, scacciando F11. Ok, che non vedete sopra. Tornando qua si può rivedere. Ok, è quello che ho tante estensioni. Qua abbiamo un segnalibri. Ecco qua, notate che non si vedo un segnalibri a proposito. Opera. Come particolarità, ok, qua ci sono le varie estensioni di Avira, se non ti interessa. Può fare la fotografia. Qua abbiamo i link. Di interessante, particolare, che c'è il VPN. Qui si può attivare. Decidendo la posizione ottimale. Asia, Europa, America, eccetera eccetera. Perché su certi siti non si può entrare senza il VPN, perché in Italia c'è il blocco. Ok. Ok, abbiamo Opera GX, che viene utilizzato per ottimizzare i giochi. Abbiamo una serie di cose. Sono giochi online, GX Mobile, varie cose che adesso non andiamo a vedere in dettaglio. GX Corner, Control, Cleaner, Navi Twitch, Whatsapp, Lettore, Tecnologia, Estensioni, Varie, Impostazioni. Non guardo i blog, però adesso, al momento, mi interessa solo di farvi vedere le cose principali. Per finire, Chrome. Come qua, telecetta di Bing. Tutto l'accesso, vabbè, in inglese. Classiche cose, qualsiasi sono le varie estensioni. Dunque, più che altro, Chrome viene utilizzato, diciamo, per la comunità, del fatto che si possa utilizzare il microfono senza grossi problemi. Quindi, usare il dettato di Word Online. E, come vi aveva fatto vedere, l'utilizzo, poi, dei Docs. Mentre il Word, però, è quello di Drive, molto simile. E, per quanto riguarda, il traduttore. Beh, a parte per queste particolarità, comunque, io utilizzo i vari browser, vari anche per utilizzare i vari account delle varie piattaforme e altre cose. Ecco, tutto qui, una cosa molto, molto, proprio, veloce. Perché ci saranno, ovviamente, altre cose, però, solo far vedere le particolarità, le differenze di base. Bene, spero che sia stato interessante. Grazie dell'ascolto. Buona settimana. Ci aggiorniamo tra sette giorni.